Redback funnel with blue ring, octopus, taipan, tiger, snake, add a box, jellyfish, stonefish And the poison thing that lives in a shell, the spicy when you pick it up Come to Australia, you might accidentally get killed Ciao, sono Ijalis Vi ho portato nel cuore di quello che sta succedendo a Brisbane, al Festival di Erka Una cosa che sinceramente non pensavo fosse possibile, quando me l'hanno raccontata pensavo stessero scherzando È una gara di accettatori di tronchi Prima che salgono sui tronchi, adesso abbiamo appena assistito al riscaldamento Stavano lì, affilavano le loro acce, accettavano fortissimo, il pubblico li sosteneva Quando avevano finito c'era un signore anziano con il cappello che andava dai concordi e gli diceva Bravo, hai accettato veramente bene E adesso credo che sono al secondo turno, stanno pulendo quello che è rimasto del primo turno C'è, giuro che si respira una tensione, la gente quando a un certo punto uno è scivolato E la gente ha fatto, come succede allo stadio quando uno perde palco Senti? Senti? Sì Oh, comunque la gente qua si diverte, una ragazza della Russia a Spetano Senti? No No, la gente si diverte un casino qui Guarda, guarda, riscaldamento Senti? 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 Che accettatore Fabio, lascia andare bene il polso Braccio rigido, siamo al 120esimo, mantieni la lucidità Che accettatore, che boscaiolo Fabio, veramente grandissima impresa Senti? 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 Grazie.